Grazie Grazie Di Cagliari c'è il gruppo Buonasera signor Nino Buonasera lì Come va? Bene Artigianato sardo vero? Sì No 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 Arbaneso Sardo se devo bagliare C'è lì 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 Il giorno che lo ritrovi morto La devo cercare Così ritorniamo ai tempi antichi E davvero guarda E la donna la faccio un istante Sì La digetta Sì 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 C'è lì Ciao Giorgio Ciao Nino 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 Gommai vai vicino a tua sorella Dai Vedi vicino Gommai Gommai Però vogliamo Aspetta che c'è tanto Eh Scusa Scusa Dai Belline Vedo noi No Ribele a noi Ribele a noi Ribele a noi Adesso hai i due sposi I due mariti Belline Schifo Z Duzù Lai che mi fa questo biettivo No Mi vuole noi No 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 Che mi finisce tutta la batteria Eh Eh La famiglia è completa Quasi 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 Che 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 Bello Che 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 C'ho ancora Un bocca uno Ma L'ho spussato No Sai cos'è Ci sono Secondi Della Della ciao che fai? ceci? sono castagno va bene ci sono ancora? vende i ceci i ceci sono migliori che fai? niente due va bene cosa ci devono dare in cambio? un maialino maialetto? maialetto già maialetto è la cena maialetto è la cena maialetto ci devono dare a cosa è il cambio? il cambio della vittoria vi abbiamo fatto vincere corrotti meglio voi che quelli là mi avete distrutto psicologicamente a poter mi? 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 ma perché ti sto incazzato anche? ti sei incazzato? roberto? ah ti sei incazzato roberto? nooo è rimasto ma non è la colpa di solo di roberto? gianni carboni c'è che si sbarava mi ha fatto un paio di volte la finta andava in diagonale difendere poi tornava al centro quindi ero dietro io non sapevo dove cazzo andare gianni carboni ti sei incazzato roberto? mi ha applicato la linea con finito ti sei incazzato roberto? ti sei incazzato roberto? gianni carboni con finito non lo metto lui in prima linea con finito in secondo dovrebbe essere più di me sono due fasi una fase una fase facciamo sempre ma no chi è che ha giocato male? tutti gianni roberto mario mario bacio mario bacio gg gg l'unico che sono salvato sono io beh tu mi stai io sto giocando con lo scuro o vinci? sono stati i più bravi di loro la il martello dell'olimpia ma a capa da piano che ci vuole ammurarlo? a capa da piano non li avete ammurati niente? più forte in attacco poi è un pareggiatore che è il più forte da sardegna giovane lui ormai gioca in serie B perchè è diventato io sono uscito di categoria sono un raco per culo per culo sono un raco cosa faccio dopo? cosa faccio? cosa ho un macco? sono anch'io del desi ciao buongiorno buona festa che sono anche io buonasera ci troviamo nel locale di Piero fa mangiare anzi facciamo anche in freddo non c'è nessuno vero? dai fa cosa da dire porca miseria nulla 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 aspetta non ti bio guarda che quando vi sposate sono io il vostro cameraman ok? faccio io le riprese stai facendo le prove facendo le prove di bacia lo sposo non commento non commento non commento non commento grazie a tutti grazie a tutti ciao papà ciao 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 no papà è mia non la spedisci a casa non la spedisci a casa non la spedisci a casa è troppo lungo beh luci non la sanuda non comment ciao ciao bella ui ignorance e giro che si fa a livello Cosa è su Dinu? Dinu, c'è una volta alle due e mezza mi hanno fatto delle vie per le lastre C'è bastardi Mica, le pini santa ha preso i dottori santa ma non ci chiamavano più Su Meri Uiii Antonello Primo piano al bambino No no dai, esco giattissimo Giorgio Vabbè un ricordo non hai neanche una di ripresa il tuo figlio piccolino proprio piccolino piccolino che bellino un primo piano Visto il salmone lo chiede Visto il salmone lo chiede Visto il salmone lo chiede Che cos'è? Che cos'è? Salmone Salmone, pesce E' buono Come ti chiami? Fabio Quanti anni hai? Quarta Quarta Tuo padre come si chiama? Non sai Gopai Schiava Gopai Dov'è? E' lì, vero? Nooo A me no eh Gopai che pizza stai mangiando? No, no, no Non ti prendo Non ti prendo Tanto ti ho ripresa prima Dai Ho fatto una sveglia Mangia, mangia Non ti prendo Io ti prendo Ciao Buon appetito Pizza polpa di carne Un'ottima pizza Ciao raga Ciao Buon appetito Ciao Ciao vabbè No Go No, no Non ne accendo luce Non ne accendo luce Non ne accendo luce Non ne accendo luce Marina Manna Rifresso Doro A monte Bad E Tu sa Bim Bam Boom